Il 25 novembre lunedì, buongiorno e buon inizio di settimana da me e da Luca Morena in regia. Mantenere viva la memoria del genocidio della comunità Rom e Sinti avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo l'obiettivo del progetto Meroma che ha portato ad Agnone 37 visitatori da Italia, Spagna e Croazia guidati nel luogo dove negli anni 40 c'era un campo di concentramento. Sentiamo in proposito Valeria Migliore. Laddove oggi sorge l'ex convento di San Bernardino adibito a casa di riposo per anziani, un tempo c'era un campo di concentramento nel quale furono internati 150 Roma e Sinti. Agnone è un borgo conosciuto anche fuori regione per le campane e per l'Andocciata, ma è passato alla storia pure per aver avuto uno dei cinque campi di concentramento del Molise durante la Seconda Guerra Mondiale. Una pagina del Novecento che il progetto europeo Meroma, memoria storica europea romani, ha voluto far leggere a un gruppo di 37 persone provenienti da Italia, Spagna e Croazia che hanno scoperto quel tragico filo rosso che in qualche modo le lega ad Agnone grazie ai lavori del professor Francesco Tanzi, specializzato nello studio del genocidio della comunità Rom e Sinti e all'impegno di Saracetti dell'associazione Rom in Progress. Proprio Tanzi con i suoi studenti ospitò ad Agnone Milca Goman, internata nel campo. Lei potette rivedere i luoghi della sua prigionia, si commosse, ha pianto, insomma è stata una cosa molto bella e noi poi abbiamo, cioè noi, il comune d'Agnone ha fatto una raccolta fondi per aiutarla a risistemare la sua rurotta, insomma, e la storia è andata avanti, tant'è che poi abbiamo fatto un secondo libro intitolato proprio Una storia mai finita, perché è una storia che continua sempre e, ripeto, il nome di Agnone del campo di concentramento ormai è diventato noto un po' dappertutto. Un vero e proprio viaggio nella memoria, doloroso e commovente, un capitolo del Novecento che spesso passa inosservato perché ancora oggi, nei confronti della comunità Rom, dicono gli organizzatori del progetto, esistono tanti pregiudizi. Una giornata della memoria, ma soprattutto anche visitare luoghi di memoria, perché durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale i Rom e Sinti abbiamo voluto lasciare questa parte tragica in silenzio per diversi anni. Ovviamente tanti sopravvissuti, grazie a loro, sono usciti ad avere questa forza di recuperare e di poter anche trasmettere ai più giovani generazioni quello che è successo. L'appello all'Italia, che arriva dal gruppo di visitatori, è quello di tener conto di una minoranza culturale che esiste e che vuole essere rappresentata, anche riappropriandosi di quei luoghi della memoria che apparterebbero di diritto alla comunità Rom. Essendo che in Italia, come ben sapete, non siamo riconosciuti dal 482 del 99 come la tredicesima minoranza, ma anche il Samudaripe, il genocidio della comunità romana, non è riconosciuto, dobbiamo andare in Croazia a commemorare i nostri defunti, che qualcuno li ha uccisi e ancora nessuno in Italia ha detto scusate. Anche se è doloroso in questo edificio, per me, ahimè, questo edificio deve appartenere alla comunità romani, spero che diventa un museo storico della comunità romani. Il giornalista Roberto Colella, protagonista nell'aula magna del convitto Mario Pagano di Campobasso per la presentazione del nuovo terrorismo spiegato ai ragazzi. Dieci anni di analisi su esteri e sicurezza, maturati anche grazie alla collaborazione con l'edizione online del Fatto Quotidiano. Ce ne parla Stefano Ricci. Un lavoro serio e meticoloso, portato avanti con competenza e passione prima sui principali scenari internazionali, quindi nella produzione edita da Elvi Andante di un libro con una rinnovata ambizione pienamente riuscita di spiegare il terrorismo ai ragazzi. È un libro che nasce da dieci anni di articoli con il Fatto Quotidiano, qualcuno ha anche pubblicato con la Treccani, ovviamente non sono tutti, ma ne ho selezionati alcuni per raccontare in modo anche chiaro il nuovo terrorismo, partendo dai ragazzi, quindi attraverso alcuni articoli, schemi, dalla nascita del termine Jihad fino a quando, appunto, come si finanziano le organizzazioni terroristiche. Un lavoro, quello di Colella, che ha tenuto in conto tanti aspetti per trattare il fenomeno sul piano culturale e dell'approfondimento, con un fine che non è mai limitato a quello di formare per il futuro. I giovani sono fondamentali per comprendere, insomma, queste dinamiche, partire appunto dalla storia, dalle fonti, dalle origini, quindi conoscenze storiche, antropologiche, geopolitiche, relazioni internazionali per comprendere meglio quello che sta succedendo. Colella riceve il plauso anche di quei vertici delle forze dell'ordine impegnate in prima linea che ne sottolineano il valore per il messaggio ai giovani. Roberto Colella mi ha stupito perché non avevo mai letto qualcosa del genere rivolto ai giovani e penso che sia una carta vincente ricercare nella nostra cultura i paragoni, i confronti con la loro cultura, nella nostra religione i contenuti da confrontare con quelli della loro religione, visto che quella loro è una forma di terrorismo etnico-religioso. È riuscito con semplicità ad affrontare argomenti importanti che poi vanno sicuramente più sviscerati proprio dai giovani a cui il libro è rivolto. Il Presidente del Consiglio regionale Pallante ci ha tenuto a complimentarsi con Colella e per il Rettore Gianfagna la gioia da condividere con un prezioso collaboratore dell'Istituto. È stato appassionante capire come alcuni fenomeni che magari ci sembrano lontani, in realtà hanno delle radici profonde, ci possono far comprendere il fenomeno che magari ha avuto una stagione completamente diversa da quella del terrorismo italiano che mi è più vicino anche dal punto di vista fisico oltre che cronologico e invece si capisce quando questi fenomeni siano così radicali e quando siano difficili da estirpare. Innanzitutto Roberto Colella per noi è una persona di famiglia, di casa perché con lui facciamo tante cose interessanti ai giovani proprio sul discorso della comunicazione. Ma poi è un libro veramente interessante, rivolto ai giovani, giovani che magari non sanno molte cose oppure pensano che il terrorismo sia qualcosa di lontano oppure di passato e quindi poi spiegarlo con il linguaggio giusto che lui ha usato nel libro a noi veramente fa piacere perché è un discorso di cultura, di istruzione. La palestra CST di Sermia ha spento 50 candeline. Grande partecipazione al Palasport Pentro per Bernardo Centracchio e la sua fucina di campioni del giudo. Presenti anche i figli tra cui la campionessa Maria e il giudoca olimpionico Pino Maddaloni. Per noi c'era Davide Gambardella. La sua palestra ha spento 50 candeline, un luogo che ha sfornato talenti del giudo e che è stata celebrata al cospetto di campioni olimpionici ma anche di tanti cittadini di Sermia che hanno voluto festeggiare con lui. Il maestro Bernardo Centracchio è apparso visibilmente commosso alla celebrazione per i 50 anni di attività del CST, palestra fucina di talenti del giudo. Tre presenti alla festa al Palasport di Sermia, il campione napoletano Pino Maddaloni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sidney e la figlia Maria Centracchio, premiata con il bronzo a quelle di Tokyo. Una medaglia speciale è stata consegnata anche a tanti ex campioni che hanno partecipato alla vita sportiva del CST. Ma è chiaro che la gioia è immensa e le emozioni portano o lacrime di gioia o lacrime di dolore. Sono state sempre lacrime di gioia ma c'è stato anche un particolare momento rievocando delle persone che non ci sono più, che sono state vicine. Ugo Antenucci, mio zio che è stato il primo presidente, Vincenzo Silvestri e il carissimo amico Carlo Moscato, sono stati ricordi tristi, però sempre con gioia nel cuore perché veramente è stata una festa meravigliosa. Avere tutte queste persone vicine ti sprona ad andare avanti e a continuare. Avere qui Pino Maddaloni come ospite d'onore è stata una grande gioia. Per la prima volta abbiamo fatto il conteggio delle medaglie e abbiamo scoperto di aver vinto 138 medaglie, ma non è una cosa da poco. Un ringraziamento particolare va a Manuela Pedecia che è stata anche una mia atleta che ha rappresentato l'Italia in una maniera eccezionale. Antonio Di Lallo che mi vuole un bene della Madonna. Siamo amici da lungo tempo che sempre, sempre, sempre a ogni mia notizia è impeccabile che Telemolizia è presente. Maestro di judo e di vita Bernardo Centracchio, come un padre per tanti sernini a cui ha insegnato quell'agonismo misto ad una sana cattiveria che occorrono nella vita per emergere, ma l'arte marziale è fondamentale nei processi di sviluppo della persona e soprattutto di una comunità. Ma penso che Bernardo Centracchio è stato un po' il papà di tanti bambini di Sernia e sai trasmettere la tua esperienza ai giovani, dedicare il tuo tempo ai giovani. Io penso che è il regalo più bello che puoi fare a un bambino e sai crescere con dei valori come il rispetto delle regole, il rispetto del proprio amico. Penso che questo aiuti anche noi ad avere una quotidianità migliore perché incontrerai giovani che hanno dei valori. Sicuramente sì, anche ancora oggi c'è tutto questo affetto, questo seguito è perché come educatore, come maestro ha lasciato veramente un grande segno, non solo insegnando il judo, la disciplina e la tecnica di judo, ma insegnando veramente una morale, dando dei valori e rimanendo sempre un punto di riferimento per tutti i ragazzi che sono passati in palestra. E con questo servizio ci fermiamo, adesso la rassegna stampa. Partiamo dal giornale del Molise, l'apertura è questa, acqua chiusa in anticipo, sabato sera da dimenticare a Campobasso, parlano i titolari dei locali che sono esasperati, siamo in ginocchio. Altri argomenti, cibo, benzina, bollette, salasso per le famiglie molisane, anche la politica, il Movimento 5 Stelle cambia strada, anche il Molise è con Giuseppe Conte, poi vedremo anche sui quotidiani nazionali la svolta. Fino a settimana, questa vincita milionaria all'Eurojackpot, clamorosa vincita da 4 milioni di Euro a Campobasso. E ancora, Deborah Pastore entra nel cast del programma Forum come uditore giudiziario. Dal giornale del Molise Ice News, questo argomento in evidenza, capitale italiana del libro 2025, tra le sei città finaliste c'è Macchia Godena. Il calcio, quello di Serie C, sconfitta in trasferta per il Campobasso, incassa un 3-0 dalla Virtus Entella. La cronaca, si perdono sui Monti del Matese escursionisti salvati dal soccorso alpino. Anche qui la crisi idrica, rubinetti chiusi con un'ora di anticipo senza preavviso, ancora disagi a Campobasso. Uno sguardo anche a controvento che dedica grande spazio alla giornata di oggi. i femminicidi, i dati Istat, sono l'82% degli omicidi con vittime donne. Dunque è un focus sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Poi la politica, l'Assemblea dei Cinque Stelle, l'Assemblea di Conte che uccide il vecchio Cinque Stelle, via la figura del garante. Spazio anche al calcio di Serie C, Campobasso sconfitto a Chiavari per 3-0, si interrompe la striscia positiva per il rosso-blu. Ed ora, primo piano, andiamo a vedere subito l'apertura. Cittadella della Salute, Cardarelli, verso il trasloco all'ex Cattolica. La Regione tratta l'acquisto dell'immobile, polo di assistenza e didattica, grazie anche alla presenza dell'Università. E a proposito di sanità, andiamo al Santissimo Rosario di Venafro, ambulatorio ortopedico aperto da poco e già preso d'assalto. Dalla Santimotio, all'ospedale Santimotio di Termoli, invece, chirurgia, parla il neoprimario. Qui molta voglia di crescere. Gli altri argomenti. L'agenda politica, sotto la testata sul territorio, si sgretola l'unità del PD Molise. Verifica sulla governance. A gennaio la conta nei congressi di federazione. La crisi idrica, Rubinetti a secco un'ora prima del previsto a Campobasso. Sabato in rovina. Esercenti e sindaca contro Molise-Acqua. Pasquale Damiani firma il punto. Si parla di Sernia, del Castrataro, che molla Vinci e rilancia. Alcuni richiami. Violenza sulle donne. Ricordiamo oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. conoscenza e cultura. La lotta parte dalle scuole. L'appello dei centri. Più collaborazione istituzionale. E poi una polemica. La carrese di Portoquannone è spostata al sabato per motivi turistici. C'è il punto di domanda. Don Nicola, non ci sta. Fotonotizia. Il Campobasso perde a Chiavari dopo dieci giornate di imbattibilità. Lentella bussa tre volte. I Liguri passano dopo la mezz'ora e arrotondano nei minuti finali. C'è l'analisi di Mr. Braglia. Gol subiti sui nostri errori. Ora si inizia a fare sul serio. Mentre il calcio di Serie D. Quarto pareggio di fila per l'Isernia. Termoli frenato dalla Civita Novese. Il basket. La Magnolia supera Brescia. E va all'assalto dei primi posti. Infine la pallavolo. Spike ancora. K.O. Si interrompe il rapporto con Maniscalco. Restiamo sui quotidiani regionali. Ecco il centro. Andiamo in Abruzzo. La rivolta delle donne. A Ripa Teatina, una 64enne, si ribella dopo anni al marito stupratore. Denuncia shock. Mi ha violentata 30 volte. Il giudice lo caccia di casa. Sotto la testata, nuova legge elettorale. Pietrucci dice che penalizza tutte le aree interne. Si continua a parlare della caccia ai cervi. In Abruzzo interviene Cruciani. Iter Pazzesco deve decidere la politica. Un malore improvviso. Addio a Canale. Impreditore della carta. Aveva 76 anni. Fotonotizia. Il calcio. Vescara una notte da Leoni. Alle 20.30 il derby con il Pineto. All'Adriatico attesi 8.000 spettatori. Andiamo a fondo pagina. Crocs. Oggi si apre il processo. Siamo a Pescara. L'omicidio al Parco Baden-Powell. Prima udienza per conferire l'incarico della perizia psichiatrica. E adesso i quotidiani nazionali. Qui in evidenza la rivoluzione in Casa 5 Stelle. Conte che di fatto licenzia Grillo. L'apertura del Corriere è questa. Conte chiude all'epoca Grillo. L'ex premier si prende il Movimento 5 Stelle. Abolito il garante. Via il tetto ai mandati. Sì alle alleanze. E c'è l'ira del fondatore. Intanto vertice sulla manovra dopo le tensioni. Meloni ai suoi vice. Abbassate i toni. C'è Barbara Stefanelli che prima un articolo sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La violenza contro le donne non è un gioco di parole. Grande foto di taglio centrale. Vedete. Sinere Berrettini. Trionfo in Davis. Il tennis è azzurro. Bis dunque per la Coppa Davis. Di taglio ancora centrale. Ucciso il rabbino. Il rabbino sparito. Netanyahu dice. Farò giustizia. Continuiamo con i quotidiani nazionali. Andiamo a vedere Repubblica. Conte cancella Grillo. La costituente conferma l'ex premier leader del Movimento. Aboliti il garante e il limite dei due mandati. Il fondatore dice. Da francescani a gesuiti. Sì alle alleanze a sinistra. Ma applausi agli appelli anti-migranti. Per quanto riguarda la giornata di oggi. Contro la violenza delle donne. C'è un approfondimento. Giulia parla. La sorella. Sono morta con lei. E qui si parla della sorella. Giulia e Chiara Tramontano. Anche Repubblica. Di taglio centrale. Mette la foto. La vittoria della Coppa Davis. Mentre a fondo pagina. Trego in Libano. L'accordo è vicino. Questo secondo le ultime notizie. Trasmesse dalle televisioni. Mediorientali. La stampa. I 5 Stelle a Conte. Licenziato Grillo. L'ex premier sulle alleanze. Ci sporcheremo le mani. L'ira del fondatore. L'abbiamo visto. Da francescani passati a gesuiti. Di spalla. Medioriente. Ucciso il rabbino. Che voleva unire ebrei e arabi. L'Iran. Pagherà. Questo è quanto è stato detto. Ora. Libero. Altro che lotta al patriarcato. Femministe contro le donne. Chiedono il diritto di aborto in casa con le amiche. Attaccano la polizia. Se la prendono con Israele. Vogliono zittire chi non la pensa come loro. La violenza non si combatte. Così scrive. E appunto il Libero. Che poi mette a centropagina questa foto. Salta Grillo. Resta Conte. I 5 Stelle. Non si sa. Beppe fatto fuori dall'assemblea del Movimento 5 Stelle. Da Libero. Al tempo. Primo piano anche qui. Il Movimento 5 Stelle. Il grillicidio si tinge di giallo. Conte ruba il Movimento a Grillo. Ma spuntano Crimi e Fico. Al PC poco prima dei verdetti. Dunque sorrisi. E poi è tutto a posto. C'è anche qui il punto di domanda. Fra i fan di Beppe. Si dice ipotesi brogli. Intanto dal logo alla Cannabis Libera. Ecco la svolta pentastellata. Così sul quotidiano romano. Adesso a Napoli con il mattino. Napoli è in vetta. Roma sconfitta del calcio. Decide Lukaku. Azzurri. Di nuovo primi. Brividi al Maradona per l'inedito di Pino Daniele. Più basso. 5 Stelle. Ben servito a Grillo. E stop al limite dei due mandati. Poi si parla anche della manovra. Vertice di maggioranza. Più aiuti alle famiglie. Canone Rai verso il taglio. Il secolo d'Italia. Orgoglio d'Italia. Storico bis in Coppa Davis. Il grazie di Giorgia Meloni. Di taglio basso. Raffaele Fitto. Commissario UE. Promosso da tre elettori su quattro. E ancora. Il governo apre a modifiche migliorative della manovra. Continuiamo. C'è anche un intervento di Padre Benandi. esperto di intelligenza artificiale. I governi possono arginare gli oligarchi. Siamo sulla verità. L'unico patriarcato che esiste è quello che piace alla sinistra. Bisogna capire le cause per combattere davvero la violenza. Comunità islamiche frutto di immigrazione selvaggia. Utero in affitto. Trans che usurpano i posti delle donne. Aspetti denunciati da molte femministe. Che vengono attaccate. Perché non è questione di genere. Ma politica. Così sulla verità. Che più in basso si occupa del Movimento 5 Stelle. Conte cancella Grillo. E stravolge appunto il Movimento. Il messaggero. In alto. Anche qui. Addio a Grillo. Sì al terzo mandato. Poi il governo apre alle imprese. Vertice sulla manovra. Sul tavolo. L'IRES premiale. In salita. Il taglio IRPEF. Fondi per le forze dell'ordine. C'è un'intervista a Zangrillo. Il ministro Zangrillo. La pubblica amministrazione assumerà i giovani talenti direttamente negli istituti tecnici. La foto della nazionale di Davis. Italia padrona. Il trionfo di Sinner e Berettini. La Coppa Davis è ancora azzurra. Diamo uno sguardo anche all'informazione economica e finanziaria. È solo le 24 ore. Che si occupa di occupazione. Scusate il bisticcio di parole. Giovani e lavoro. Decisivi. Stipendi. Tempi. E garanzie. Secondo noto sondaggi. Il 57% di chi rifiuta un'offerta lo fa per la paga. L'80% per un po' cerca un posto da dipendente. E ancora. Così il BTP e i libretti postali tagliano l'ISEE. Passiamo adesso alla Gazzetta dello Sport. Giustamente dedica quasi intera pagina alla tennis. La Coppa Davis resta in Italia. Ancora nostra. Berettini e poi Sinner travolgono l'Olanda. È uno storico bis. Il numero uno dice. L'avevo promesso a Matteo. Che scoppia in lacrime. Poi il calcio risposta a Lukaku. Il Napoli torna al comando. Ranieri non basta alla Roma. Ha giudicato anche il Mondiale di Formula 1. Un fantastico quattro. Il trionfo di Verstappen. È stato il Mondiale più difficile. Bene. Con la Gazzetta dello Sport. Come sempre termina l'appuntamento del mattino. La nostra informazione torna alle 14. Con la seconda edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata e buona settimana. A lei esce. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.